Chiedeva la restituzione delle somme con un interesse del 120%. Un uomo di 51 anni, pregiudicato di gravina, è stato arrestato e dovrà rispondere di usura, estorsione e lesioni personali aggravate. La vittima è un artigiano di gravina che nel 2013, trovatosi in difficoltà economica e non riuscendo ad ottenere un prestito dalle banche, si è sentito costretto a chiedere un prestito di 7.000 euro ad un usuraio del paese. Ma quella che era sembrata una boccata d'ossigeno, col passare del tempo si è rivelata la sua condanna. Dopo la restituzione del capitale, si sono aggiunti interessi per oltre 13.000 euro pagati con parte del denaro e parte con servizi resi dall'artigiano all'usuraio. Ciò non è però bastato e la pretesa successiva è stata di 20.000 euro a titolo di interessi maturati ancora sul prestito. Alla richiesta di soprassedere, l'usurario ha violentemente picchiato l'artigiano, procurandogli lesioni al volto guaribili in 10 giorni. La vittima ha capito che l'unica via per uscire era rivolgersi alle forze dell'ordine. Eseguita la denuncia, le immediate indagini dei carabinieri di Grevina coordinati dal sostituto procuratore Livia Giorgio e il sequestro della documentazione dalla quale si evinceva come la vittima del prestito avesse in effetti pagato interessi usurari superiori al 120%. Su richiesta della procura, l'uomo è stato arrestato e trasferito in carcere.